Il minor numero di tamponi effettuati ieri in Campania consente anche alla provincia di Salerno di avere un tabellone il cui numero zero è più che evidente e presente. Ovviamente si tratta di dati che non corrispondono purtroppo alla realtà. La città capoluogo, anche in virtù del suo maggior numero di abitanti, è ancora prima con dieci contagi. Poi si hanno escafati con due contagi a seguire tutte le altre città con un caso e tantissime con zero casi. Ieri a Pagani il cordoglio per la scomparsa per il covid di un commerciante molto noto, Lorenzo Abbagnara, aveva una macelleria nello storico quartiere di Barbazzano. Secondo la cronaca sarebbe caduto fuori dal suo negozio e ricoverato all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno avrebbe contratto il virus che lo ha portato alla morte. Cordoglio in città perché Abbagnara era molto conosciuto. Lorenzo amava Pagani e la sua gente, ma di più i paganesi di via Barbazzano per loro era sempre in prima linea a chiedere aiuti e più cura per quella strada e per piazza Cirio. Lo ha detto Massimo Donofrio, che conosceva personalmente l'uomo scomparso. Lorenzo amava Pagani, ha continuato Massimo Donofrio, lo facevo su tutto. Il tanto il sindaco di Maiori, Antonio Capone, si è detto preoccupato per un possibile focolaio nella cittadina costiera. Attualmente, ha detto il sindaco, i concittadini positivi sono solamente tre, ma l'ultimo caso di positività accertato il 24 dicembre ci desta molta preoccupazione e bisogna stare attenti. Grazie a tutti.